su una collina molto lontano stava una vecchia ai rozzi e croci qual è l'attrazione sul monte Calvario e noi vediamo che il mondo religioso lo aveva condannato e il governo romano lo aveva sentenziato a morte ed ecco che egli era lì appeso tra due malfattori assetato col sangue che scorreva fuori dal suo corpo eccolo appeso lì che grida Dio mio Dio mio perché mi hai tu abbandonato e il popolo religioso che stava lì a guardarlo poco sapeva che la profezia del Vecchio Testamento per quel tempo si stava vendendo proprio lì al Calvario Dio mio Dio mio perché mi hai tu abbandonato Dio mio dico Dio mio Dio mio Dio ATP Division C di montare Dio mio Dio Dio mio Dio